L'1 e il 2 dicembre 2016 a Milano Marittima, Professione Acqua ha organizzato il convegno d'autunno 2016, un'occasione importante per i maggiori player italiani nel settore della costruzione delle piscine per confrontarsi e aggiornare le proprie tecniche produttive e le ultime normative tecniche nel campo della produzione e riqualificazione di impianti natatori. Tecnologie, tecniche, leggi, due giorni di convegni con workshop e speech divisi in tre sale, 23 aziende presenti e 250 professionisti che hanno frequentato le attività di un convegno sempre più punto di riferimento di un intero settore. Coperture telescopiche per piscine, possono essere alte, basse o fisse e con l'uso della copertura e il completamento della piscina e permette di usare la piscina tutto l'anno. Si scalda autonomamente l'acqua sfruttando l'effetto serra, si protegge la piscina perché molto spesso i clienti chiedono la sicurezza in piscina per i bambini, per gli animali e con la copertura tutto è possibile. In più si ha un enorme risparmio di prodotti chimici perché non avendo più la sporcizia in piscina, quindi l'evaporazione, quindi dovendo aggiungere cloro o altri prodotti si riesce a ridurre anche il costo di gestione. Però il piacere più grosso è quello di poter fare il bagno fuori stagione da marzo a ottobre. Possiamo intervenire prima in fase di progettazione o successivamente quando la piscina è già realizzata, quindi il cliente chiede il servizio di poter avere una copertura sopra la piscina, noi possiamo fare dalla progettazione, curiamo poi l'installazione della struttura e poi i 10 anni di garanzia totali su tutta la struttura, quindi anche un servizio di assistenza post vendita in tutta Italia. Grazie 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 a tutti.